Sono sempre stata posata e seria Look sobri e maestra vaganti Zero ansia da palcoscenico No dai scherzo, ne ho combinate veramente di tutti i colori E quest'anno sarà ancora più divertente Perché X Factor Daily lo conduco io X Factor Daily, la nuova stagione Da venerdì alle 19.35 su Sky 1 Grazie a tutti